E' più facile rispettare le prescrizioni per la pandemia di Covid-19 a Firenze se c'è una di queste buchette nel muro. I clienti non hanno bisogno di entrare e tutto avviene attraverso questa apertura. Create nella città del rinascimento nella seconda metà del 1500 per la vendita diretta dal produttore al consumatore, queste buchette del vino si dimostrarono molto utili per il distanziamento durante la peste che devastò la città nel 1630. Oggi permettono al ristorante e bar del centro storico di continuare a operare durante il lockdown. Il riscontro è stata una cosa fenomenale perché le persone hanno riscoperto, a parte il piacere di uscire e vedere una faccia fuori dalla cerchia familiare, poi comunque il piacere di questa bellissima sorpresa di un passo indietro nel tempo. La pandemia ha colpito pesantemente una delle città più turistiche al mondo. Bar e ristoranti del centro storico hanno riscontrato fino all'80% di cali di fatturato. Deserto quasi totale, turisti zero, viviamo solo con le persone che vivono qui nella zona, che ogni tanto prendono qualcosa da sport o poco altro. Hanno ricavato queste buchette qualche secolo fa e per le stesse ragioni le stanno usando oggi. Era la peste nel XVII secolo e la pandemia di Covid oggi. Ma hanno la stessa funzione, la vita deve andare avanti anche se con tutte le precauzioni del caso. La gente prendeva ciò che doveva prendere, il fiasco di vino, il bicchiere di vino e nel momento in cui andava a pagare gli veniva allungato una vaschetta con dentro dell'aceto in modo che le monete che venivano inserite in questa vaschetta venissero disinfettate. Quindi quanto di meglio si poteva fare all'epoca per cercare di contrastare la peste. Oggi circa il 25% dei locali sono a rischio di chiusura definitiva entro la primavera. Forse una saggia idea dal passato può aiutare ad affrontare i prossimi mesi. Luca Palamara per Aeronews, Firenze.